Il viaggio per l'Urd dell'Unitalsi con a bordo circa 2.500 persone, a bordo dei 5 treni bianchi, diventa uno di sé. A Matteo Di Giuseppe, tra i passeggeri, ci racconta la sua esperienza. Sì, noi siamo partiti da l'Urd nel pomeriggio di sabato verso le 2.15. Praticamente la sera, invece di arrivare a Ventimiglia, ci hanno dirottato su Marsiglia verso le 11 di sera. All'inizio non sapevamo il motivo di dirottamento su Marsiglia, poi mano a mano ci hanno informato delle notizie che giungevano da Cannes e quindi dell'alluvione delle vittime. Subito ci hanno soccorso, ci sono venuti incontro sia la polizia rossa francese, la polizia che ha ascoltato la stazione dove stavamo insieme ai treni francesi. Ci hanno dato dei veri. Poi verso l'Una, dopo 14 ore, quindi siamo ripartiti da Marsiglia, però il tratto per Ventimiglia era bloccato. Quindi abbiamo fatto il vecchio percorso passando da Lione, Modanne e Torino. Alcune necessità principali che abbiamo avuto è stato per quanto riguarda una signora che doveva fare la dialisi, che poi da Modanne l'abbiamo trasferita sul treno dell'Emilia perché abbiamo incontrato un altro treno a Modanne dell'Emilia e poi da Torino è stata fatta scendere e ha fatto la dialisi direttamente a Torino e poi l'abbiamo fatta rientrare con altri mezzi. Quindi rientrati a Torino abbiamo anche avuto assistenza dalla Croce Rossa italiana con le ambulanze che hanno preso questi disabili con maggiori necessità di dialisi. Due giorni di viaggio, quasi 15 ore bloccati sui treni. Cosa avete fatto? Come le avete vissute queste ore? No, fondamentalmente le abbiamo vissute in serenità perché siamo potuti comunque scendere in stazione, quindi abbiamo colto l'occasione per conoscerci meglio, per farci qualche chiacchierata in più insieme ai nostri amici disabili in maniera da non creare panico o ansie perché comunque fondamentalmente noi non abbiamo vissuto l'alluvione in prima persona quindi non abbiamo avuto queste paure, queste necessità dovute alla pioggia. Però la paura principale era quella che si creasse un po' di panico all'interno dei passeggeri, quindi tutto il personale unitarsi è rimasto tranquillo, fa il gruppo, ci siamo uniti e insieme anche i pellegrini e i malati abbiamo superato questa difficoltà. Grazie a tutti.